Si chiama Assassin ed è la più brillante supernova mai scoperta prima d'ora. Si trova a 3,8 miliardi di anni luce dalla Terra, dal nostro pianeta, nella costellazione dell'Indiano, visibile solo dall'emisfero austroico. Al suo massimo, questa per l'appunto supernova, pensate che ha raggiunto la luminosità di ben 570 milioni di volte, quella della nostra stella, quindi del Sole, ed è stata individuata da un gruppo di astronomi guidati da Suodong del Cavill Institute for Astrophysics di Pechino, in Cina, di cui sono parte anche gli astronomi italiani Gianluca Masi, responsabile scientifico di BIPO al telescope di Cecchiano, e Filomena Bufano, devine affosservatore dell'astrofisico di Catania. Ecco, questo ci fa capire credenti che questa supernova è davvero brillante, probabilmente una delle più brillanti, ma comunque ci fa rendere conto della bellezza e ancora del grande mistero che circonda il nostro universo nella vattispecie concreta, se dobbiamo essere più precisi, il nostro sistema solare. Una supernova assai bella, una supernova straordinaria, che rappresenta veramente un valore aggiunto per l'astronomia moderna e non solo. Complimenti, il video se il video termina qua, iscrivetevi e...